Ah, questa battuta di caccia non finirà mai? Già, è davvero assurdo che tutti gli animali siano sparpagliati dappertutto, dico bene? Non trovate che sarebbe fantastico se fossero tutti quanti riuniti in un bar e tu potessi entrare con indosso un impermeabile e ammazzarli tutti? Ehi, forse riesco ad attirare delle quaglie o dei fagiani con il mio richiamo per uccelli brevettato. Uccelli! Quaglie! Fagiani! Venite fuori, sono un uccello di sesso opposto che è interessato ad accoppiarsi! Hai sentito? Hai sentito? Qualcuno vuole scopare con noi! Billy, Billy, falla finita, non essere stupido. Ecco qui, ragazzi, che ne pensate? È probabile che io sia allergico ai gatti. Penso sia fantastico, Glenn, e le persone sembrano davvero godersela qui. Cavolo, se mi potessi pulire con la lingua, io non uscirei mai di casa. Vero! Come dire che se avessi nove vite io potrei finalmente trovarmi un uomo! Vuoi unirti a me? Rispondo io! Pronto? Oh, ciao, Steve, qui sei tu! O dovrei dire, ehi là, bello, visto che sei in Australia dove sei andato con Brian e Meg dopo che mamma e papà sono morti. Oh, la vita da sposati è bella. No, per adesso niente figli, però mi sto esercitando molto da solo. Mi masturbo tanto, sì. Ho detto, tra me e te, penso che Trisha potrebbe essere sterile. E a Steve, è meglio che io vada, Trisha mi sta guardando storto. Presi la cassetta di vostro padre e la gettai nell'oceano. Con quel gesto speravo di lasciare alle spalle le mie pene. Ha detto bene. È stato fico. Sì, pene, pene, ha detto pene. Proprio così, pene. Lois, come è andato il primo giorno da insegnante? Hai fatto come Mary Kayley e tornò? No, Peter. Non ho lasciato la mia famiglia per fare sesso con un dodicenne di nome Vili Fualau. Farmi arrestare per stupro, far nascere suo figlio in prigione, uscire, farmi arrestare per aver fatto sesso con lui quando aveva 13 anni, avere un altro bambino in prigione, uscire, sposarlo, cambiare nome in Mary Kayley e turno Fualau, vivere la mia vita da molestatrice disgraziata e poi essere scaricata da lui. No, non l'ho fatto. Voi almeno festeggiate con le vostre famiglie. L'anno scorso ho passato il ringraziamento con le mie sei bambole gonfiabili. Ecco a te, Carla. Vedi che possiamo fare anche altre cose insieme? Com'è il tacchino? L'ho fatto io. E cosa sono quelle facce sorprese? Ah, qualcuno si sta addormentando. Deve essere il triptofano. Ok, metto su un po' di caffè. Janet, caffè? Carla, caffè? Dina, caffè? Sasha, caffè? Papà, caffè? Vorrei averti dato più fratelli e sorelle, Glenn. Ho parlato con i miei genitori. Abiteremo da loro finché la casa non sarà a posto. Grande! Ma sarà molto peggio dei Muslix. I cereali tedeschi che fanno bene. Guten Morgen! Provami! Io sono fatto di avena e febre. Ok, sembra salutare. Ja, e sono tedesco. E mi piacerebbe vederti caccare. Ah, non lo so. Dai, dai. Sarai il nostro piccolo segreto. Soltanto noi due. Per favore, portami a casa. Ah, va bene. Ma vieni solo tu. Non mi sento affatto tranquillo. Tu, Tito! Concentrati su caccata e basta! Newsleaks, i bizzarri cereali europei che amano guardarti mentre fai la cacca. Tavolo 13. Il pesce è per il gentiluomo e il pollo è per la signora. Ricevuto. Bene, è il nostro ordine. Il pesce è per il gentiluomo e il pollo per la signora. Torno subito, scusate. Ehi, ragazzi, perché quei musilunghi? Volevamo guardare Rocky IV e il nostro DVD non funziona. E quello è solo Scottie Pippen. Quando sono nato mi hanno tirato fuori da mia madre molto lentamente. Abbiamo una cassa piena di vecchi film. Magari c'è anche Rocky IV. Vediamo, abbiamo il seguito di Ricky Bobby. Ragazze nel pallone, classico Rodney. Un milione di modi per morire nel West. No, grazie allo stesso. Eccolo qui, Rocky IV! Ah, cacchio, è scritto tutto in terroristico. Quello è cirillico, è una coppia pirata russa. Ok, lo prendiamo, sempre meglio di niente. Guarda quante braccia buffe! Mamma, ti senti mai? Ecco, non tanto fresca lì sotto. No, devi avere qualcosa che non va. Davvero? Sì, non ho mai avuto quei problemi e non conosco donne che ce l'abbiano. Ehi, guarda qua, la Fox News sta cercando la sostituta di Rhonda Latimore. Dai mamma, dovresti provarci. Insomma, hai preso una laurea in giornalismo e non l'hai mai usata. Beh, in effetti scrivevo sul giornale dell'università. Sì, hai anche parlato col tipologo roico della Federal Express. Già, e alla fine siamo usciti insieme per tre mesi. Che bel rossetto, scommetto che ti piace la musica rock, sei attraente, togliti i vestiti. Wow, mi piace, ti chiamo, è meglio che tu faccia gli esami del sangue. Ah, grazie per aver sparso la voce, Meg. Avverto la calda, liquida, ambrata presenza dell'autentica grazia di Dio distillata a freddo. È stato un vero piacere, Brian. E adesso ci aspetta il lavoro di nostro signore. Andiamo! Che cosa dobbiamo fare? La volontà di Dio, Brian. Mettere i libri al rogo. Andiamo, prendine un bel mucchio. Dobbiamo distruggere tutto quello che fa del male al signore. Buonanotte, Stewy. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Meg. ...sivotanti indecisi sono i più grandi idioti del pianeta. Cerca di dare risposte semplici e concise. Signore, la sua domanda prega. Signora Griffin, cosa intende fare per sconfiggere il crimine nella nostra città? Molto. Oh, benissimo, questa sì che è una risposta. Perché io so che è quello che vuole Gesù. Facciamo un po' di silenzio, ragazzi, ok? Possiamo iniziare l'assemblea. È tutto predisposto, Meg. Quando Chris salirà lì, il mio amico degli audiovisivi si occuperà di tutto. Ok, Meg, ricorda il nostro patto. Io faccio questo per te e in cambio ho il tuo permesso di pensare a te stasera mentre sono nella vasca. D'accordo, Nick. Fantastico, potrei anche farlo con la sinistra. Un estraneo nella vasca. Una nuova puntata di Le ragazze giapponesi adorano le cose minuscole. Oh, guarda il mio cagnolino. Lo metto nella mia borsettina. Telefonino. Tittini.